In questa intervista parliamo di leasing. Il nostro ospite è il dottor Giovanni Vanelloni di Unicredit Leasing. Il suo ruolo è Head of Credit Risk Models and Tools, Risk Management Department. Dottor Vanellone, come è oggi la gestione delle pratiche di leasing? Come è cambiato questo mercato rispetto a qualche anno fa? Il leasing è una forma tecnica specifica ma abbastanza complessa. Il mercato del leasing è un misto tra un'intermediazione finanziaria classica di tipo bancario e un'attenta gestione anche del bene che sostituisce il prodotto oggetto del finanziamento. Per Unicredit Leasing è sempre stato molto importante utilizzare strumenti che in qualche modo potessero normalizzare comportamenti, dimensioni e reti distributive diverse. Dal 2001 Unicredit Leasing ha sviluppato una pratica elettronica di fido i cui obiettivi erano quelli da un lato di massimizzare le informazioni disponibili sia interne che esterne e dall'altro quello di normalizzare comportamenti e costituire un supporto alla decisione anche per gli organi deliberanti e l'istruttoria. Negli ultimi anni con CRIF abbiamo sviluppato e implementato un progetto interessante che è la naturale evoluzione di questa pratica elettronica. Abbiamo rivisto completamente le strutture dei motori decisionali però mantenendo coerenti gli obiettivi. In questo senso abbiamo sviluppato due linee. Da un lato mantenere i processi creditizi in coerenza a quelli della banca di Unicredit che sono fortemente basili a due compliance. Quindi gestire i parametri creditizi della PD e dell'IGD. D'altro canto ottemperare invece a quella che è la nostra specificità di prodotto. In questo senso CRIF ci ha aiutato a sviluppare il motore, il cuore del motore decisionale che sono le scorecard di operazione. Un lavoro complesso in cui CRIF ci ha assistito sia dalla stesura dei requisiti che all'implementazione partendo da un'analisi di processo fino alle specifiche IT. Quindi un lavoro impegnativo molto interessante che tra l'altro, giusto per contestualizzare l'operatività di questo strumento, è in grado di deliberare anche il 30% delle pratiche di Unicredit Leasing. Grazie a Giovanni Vanellone di Unicredit Leasing, qui è Marcella Frati, PLTV.